Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora ragazzi questo sarà un video molto madonna che luce Questo sarà un video molto corto soltanto per dirvi una cosa Ho creato la mia pagina di Instagram Quindi se vi andate su Instagram dovete cercare per seguirmi on stage tv Vi faccio vedere la foto E quindi ragazzi seguitemi su Instagram Per non perdere le anticipazioni che metterò ovviamente sulle immagini Sulla foto Metterò quando sto a prendere a registrare Insomma ragazzi stanno a divertire Poi più la creerò anche la mia pagina Facebook Se tutto andrà bene ovviamente E non mi sto a montare ad essere soltanto un modo carino Quindi ragazzi questo video è stato molto veramente colto Però è troppo corto Dobbiamo dobbiamo fare qualcosa Cosa possiamo fare? Cosa cazzo possiamo fare? VIVA LA FICA Nooo! Nooo! Show belly! Do 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 Do